In un capitolo sorprendente della serie Terra Amara, gli spettatori sono stati testimoni di un evento che ha cambiato le carte in tavola. Demir e Zuleyha hanno deciso di sposarsi in gran segreto. Questa mossa audace ha lasciato senza parole l'intero pubblico, ma nessuno è rimasto tanto sbigottito quanto Hakan, che era fermamente convinto che Demir non facesse più parte di questo mondo. La decisione presa da Demir e Zuleyha di unirsi in matrimonio, scegliendo la via della discrezione e tenendo lontani tutti quegli sguardi un po' troppo curiosi e le lingue troppo pronte a mormorare, non è stata certo una scelta fatta alla leggera. È stata, invece, una decisione maturata nel tempo, pensata e ripensata, che porta con sé un carico di significati profondi e di conseguenze che andranno ben oltre il semplice scambio di anelli e di promesse. Se ci fermiamo un attimo a pensare a tutto quello che hanno dovuto affrontare, alle tempeste che hanno navigato insieme, mano nella mano, ci rendiamo conto che il loro percorso è stato tutt'altro che semplice. Hanno affrontato sfide che avrebbero messo a dura prova chiunque, superato ostacoli che sembravano insormontabili, eppure, nonostante tutto, il loro amore non ha fatto altro che crescere, diventando sempre più forte, sempre più profondo. È stato come un faro nella notte, una luce che li ha guidati attraverso i momenti più bui, una dimostrazione di pura resilienza e forza d'animo. Ed è proprio per questo che il loro matrimonio segreto assume un significato così speciale, così unico. Non è soltanto il culmine di una storia d'amore che ha fatto sognare, emozionare e a volte anche soffrire, che ha seguito le loro vicende, ma rappresenta anche un punto di svolta decisivo. Questo matrimonio segna l'inizio di una nuova era per Demir e Zuleia, l'alba di giorni che sperano essere più sereni, più luminosi, lontani dalle macchinazioni, dalle gelosie, dalle invidie che hanno avvelenato tante pagine della loro storia. È come se avessero deciso di chiudere definitivamente un capitolo, per aprirne uno nuovo, tutto da scrivere, con l'inchiostro della speranza e della promessa di un futuro migliore, costruito sulle solide fondamenta del loro amore. Ma oltre alla loro felicità personale, il loro matrimonio in segreto lancia anche un messaggio chiaro a tutti coloro che li circondano, amici e nemici. Demir e Zuleia sono uniti da un legame che va oltre le convenzioni, oltre le aspettative altrui, un legame che hanno scelto di sigillare lontano da occhi indiscreti, in un luogo dove solo loro due sono protagonisti. E se da un lato questa decisione può sembrare un rifugio, una fuga dalle pressioni esterne, dall'altro rappresenta una dichiarazione d'amore potente e ribelle, un gesto di pura libertà. Sì, perché scegliendo di sposarsi in gran segreto, Demir e Zuleia hanno affermato il loro diritto di decidere del proprio destino, di vivere il loro amore secondo le proprie regole, liberi da giudizi e condizionamenti. In conclusione, il matrimonio segreto di Demir e Zuleia non è solo un evento che segna un punto di arrivo, ma è anche e soprattutto un punto di partenza. Un invito a guardare al futuro con occhi nuovi, a credere che, non importa quanto difficile possa sembrare il cammino, c'è sempre spazio per un nuovo inizio, per riscrivere la propria storia, magari questa volta con un finale felice. E in questo senso, il loro sì pronunciato lontano da tutti non è solo la conferma di un amore che ha superato ogni prova, ma è anche una promessa di giorni migliori, un impegno a costruire insieme, giorno dopo giorno, quella felicità tanto desiderata e finalmente possibile. La cerimonia, intima e carica di emozioni, si è svolta lontano dagli sguardi del mondo, in un luogo che per Demir e Zuleia ha un significato particolare. Hanno scelto di scambiarsi le promesse in un angolo nascosto della loro terra, sotto il cielo aperto, testimoniati soltanto dalla natura circostante. Le parole scambiate sono state poche, ma piene di significato, suggellando un legame che ha superato ogni prova. Ma è la reazione di Hakan a questo evento a catturare particolarmente l'attenzione. La sua incredulità di fronte alla notizia è palpabile. Hakan, che credeva che Demir fosse un capitolo chiuso nella storia di Zuleia, si trova a dover riconsiderare ogni sua convinzione. La notizia del matrimonio segreto lo colpisce come un fulmine a ciel sereno, lasciandolo in uno stato di shock e confusione. I suoi piani, le sue aspettative, tutto ciò che aveva immaginato per il futuro viene improvvisamente messo in discussione dalla scoperta che Demir è ancora vivo e ha sposato Zuleia. Questa svolta inaspettata non solo agita le acque tra i personaggi coinvolti, ma promette anche di introdurre nuove dinamiche e tensioni nella trama di Terra Amara. Come reagirà Hakan a questa notizia? Cosa significherà questo matrimonio segreto per il futuro di tutti i personaggi coinvolti? E come influenzerà le vicende future della serie? Nel mondo avvincente di Terra Amara, gli ultimi eventi hanno lasciato tutti gli appassionati della serie letteralmente sulle spine. C'è una sorta di tensione nell'aria, una curiosità palpabile che aleggia tra gli spettatori, tutti impazienti di capire come si evolveranno le vicende nei prossimi episodi. Il matrimonio segreto, tra Demir e Zuleiha in particolare, ha acceso un faro di interesse e speculazione che va ben oltre il semplice gossip di paese. Questo evento inaspettato non è solo un momento chiave nella trama, ma ha aperto una vera e propria scatola di Pandora. Gli spettatori si chiedono quali altri segreti sono nascosti nelle pieghe di questa storia? Cosa non sappiamo ancora dei nostri personaggi preferiti? E soprattutto come affronteranno le sfide che il destino ha in serbo per loro dopo questo grande cambiamento? Il matrimonio segreto, tra Demir e Zuleiha, è diventato un simbolo potente all'interno della narrazione. Non è solo la celebrazione dell'amore tra due personaggi centrali, ma rappresenta anche la speranza che, non importa quanto complessa o difficile possa sembrare una situazione, c'è sempre la possibilità di un nuovo inizio. Questo evento segna un punto di svolta, non solo per Demir e Zuleiha, ma per tutti quelli che gravitano intorno a loro, amici e nemici. La cerimonia, avvolta nel mistero e nell'intimità, lascia spazio a infinite interpretazioni e possibilità. Come reagirà la comunità quando la notizia verrà a galla? Quali saranno le conseguenze per coloro che non erano a conoscenza di questo legame rinnovato? E come si posizioneranno gli antagonisti di questa storia, ora che le carte sono state mescolate di nuovo? Inoltre, l'elemento della sorpresa e del segreto aggiunge un ulteriore strato di complessità alla narrazione. Il fatto che Demir e Zuleiha abbiano scelto di unirsi in matrimonio lontano dagli occhi di tutti, sottolinea la loro necessità di proteggere il loro amore dalle minacce esterne, ma al tempo stesso solleva domande sulle dinamiche di potere e le alleanze all'interno della storia. Gli spettatori, quindi, sono ora più coinvolti che mai, tessendo teorie e ipotesi su come si evolveranno le vicende. La serie Terra Amara ha sempre avuto il dono di sorprendere e mantenere alta la tensione, ma questo ultimo sviluppo ha veramente alzato il livello, creando un terreno fertile per nuovi intrecci, conflitti e, forse, riconciliazioni. In questo clima di attesa e anticipazione, una cosa è certa. Il viaggio attraverso le prossime puntate di Terra Amara sarà ricco di emozioni, svolte inaspettate e momenti che resteranno impressi nella memoria degli spettatori. Il matrimonio segreto tra Demir e Zuleyha non è solo un episodio da raccontare, ma il preludio a una nuova fase della serie, carica di promesse e speranze per tutti i personaggi coinvolti. Ti piacerebbe un nuovo matrimonio tra Zuleyha e Demir? Scrivilo nei commenti sotto al video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Terra Amara.